Era uscita una foto di Ratzinger, come era fake, che stava tipo in sedia a rotelle. Sarà vera, cioè nel senso uno che ha mollato, molto vecchio, di fare il papa, sarà vero che sta male. Era più fake, c'era lui che surfava a Miami, dice oh, è il vecchio papa quello. Comunque Francesco pure ha detto che se ne vuole andare senza morire. Ora mai se ne vanno tutti, allora che stiamo a fare? Cioè nel senso, sei il capo dei capi della chiesa cattolica e poi no, non me la collo più. Però se questa roba diventa una cosa che sdogana sta roba per tutti, va bene. No, dici cioè, se lo fa il papa lo possiamo fare tutti. Ogni volta che il papa molla, per un anno te puoi pisciare il lavoro e nessuno invece è incazzo. Così è un bel esempio cristiano. Cioè deve solo essere un limite di papi, non troppi papi. Cioè se sono sette papi basta, cioè se sono troppi papi in panchina. Ah, troppi papi contemporaneamente. Certo. E no, invece scusa, se sono troppi papi fai tecken coi papi. Uno scontro di papi per vedere chi è il vero papa. Sì.